Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 nella chiesa di Sant'Agostino, San Costanzo ha dato l'ultimo saluto ad Andrea Triani, l'amato presidente della Proloco che dopo una lunga malattia sabato scorso ha lasciato la sua comunità. Triani, 74 anni dopo essere stato funzionario comunale aveva scelto di dedicare anche il suo tempo libero da pensionato al suo paese che oggi si è riunito e stretto attorno alla moglienza e a tutta la famiglia. Se ne va un maestro di vita sempre pronto a consigliare e ad aiutare il prossimo. Queste le parole commosse del presidente delle Proloco provinciali Damiano Bartocetti. Parole ed emozioni riprese ed inserite anche nell'omelia del parroco.